Vedere questa strada pedonale secondo me è bellissimo, ma io non dico che non debba essere pedonale, ma non può essere pedonale per gli altri, è transitabile per lei, non è più pedonale? No, perché lei deve mettere l'orario di due ore a tutti quelli che si riformiscono i vari pav e le cose. Se autorizzo sulla strada della Muralia, devo autorizzare strada palazzo di città, devo autorizzare i residenti di via Vallissia, i residenti di via Vallissia devono dire perché quelle della Muralia sì e noi no.